Buon pomeriggio a tutti, da me e dai famelici Jack Rassellini, picconini, cicciottini. Qua abbiamo un po' di tutto, dei peli broken, dei peli corti, un timidone che si nasconde. Salutate tutti i followers di Cuccioli Ellevamenti? Dai fate tutti ciao ciao con la zampetta, ciao ciao con la zampetta, non la facciamo? Mannaggia, va beh, allora lo dico io. Salute tutti da Cuccioli Ellevamenti.